Aldo Cazzullo. Buonasera Aldo, benvenuto, grazie a te. Allora, il libro intanto è questo, Dante il poeta che inventò l'Italia, edito da Mondadori. Nel 2021 sarà l'anno appunto dei 700 anni della morte di Dante, ricorrerà l'anniversario e tra le varie iniziative c'è anche il tuo libro. Tu l'hai definito, non essendo un dantista, non un commento alla Divina Commedia naturalmente, ma una sorta di romanzo. In che senso? Beh, è un po' il romanzo della Divina Commedia, è il racconto dell'inferno, storia per storia, Paolo Francesca, Ulisse, il conto Ugolino, e anche luogo per luogo, perché l'inferno è anche un viaggio in Italia. Dante descrive il Golfo di Trieste, l'arsenale di Venezia, il lago di Garda, la Lombardia, la chiama proprio Lombardia, 700 anni fa, e poi Bologna, Firenze, la Campania, la bella Trinacria, la Sicilia. E poi ci ha dato una lingua all'italiano e ci ha dato soprattutto un'idea di noi stessi, perché l'Italia non nasce dalla guerra, dalla politica, ma nasce dalla bellezza, dalla cultura, dalla poesia. Lui ha coniato l'espressione bel paese e sua. Il bel paese là dove si suona, anche se questa bellissima, dolcissima espressione è contenuta in un'invettiva durissima contro i pisani, dice Hai Pisa, vituperio delle genti, nel bel paese, là dove si suona, poiché vicini a te punir, sono lenti, muoversi la capraia e la gorgona. Lui immagina che le isole facciano diga all'arno, che straripa e anneghi tutti i pisani. E poi nello stesso canto attacca i genovesi, che col pisani avevano fatto la guerra. La guerra savonese, però a Noli c'erano le porte, in provincia di Savona, le dava le porte dell'inferno. Senti, nell'inferno ci sono, come dire, si parla molto di politica, uomini politici corrotti, traditori, violenti, ecco in questo senso il progresso storico non ha fatto grandi passi avanti in questi secoli. Dante ha un coraggio intellettuale straordinario, ebbe anche un grande coraggio fisico, lui combattere, era un cavaliere di prima linea, ma il suo grande coraggio è di mettere all'inferno tutti i potenti del suo tempo. I re e i signorotti dell'Italia li descrive annegati nel sangue, più sangue hanno versato, più sono sommersi dal sangue. E anche i papi del suo tempo, ben quattro papi sono all'inferno. Qui però c'è una novità, perché per Dante il papa non doveva essere un sovrano assoluto, doveva essere un'autorità spirituale. Proprio quello che il papa è diventato. Per l'altro Dante era devotissimo a San Francesco, l'idea che oggi c'è un papa che si chiama Francesco è sicuramente di piacerebbe. Un papa come questo, un papa così straordinario come il papa Francesco. Senti, adesso quando si parla di Dante si dicono sempre delle cose rischiose, superficiali, insomma stiamo parlando di un'immensa opera, di un genio nel vero senso della parola. Solo l'interpretazione di Malebolge occupa migliaia di volumi dappertutto, non diciamo niente. Diciamo però una cosa, che Dante in qualche modo fa un catalogo degli uomini, dei vizi, delle virtù, è una sorta di DNA, una mappa genetica dell'animo umano e in questo senso è davvero senza tempo, è come la tragedia greca, cioè è riuscito non con la tragedia ma con la commedia, in senso lato naturalmente, a descrivere gli uomini di sempre. Insomma in questo senso non ha tempo la commedia dantesca. Assolutamente, io penso che nessuno come Dante abbia messo in pratica quello che diceva Terenzio, sono un uomo e nulla che sia umano e a me è strano. Lui ad esempio incontra il traditore di Montaperti, quello che aveva fatto perdere la battaglia ai fiorentini e gli strappa i capelli, però poi trova il vincitore di Montaperti che era Fagnata degli Uberti, che però poi salvò Firenze, ne impedì la distruzione e lo racconta che si erge col petto e con la fronte da sepolcro come avesse l'inferno grandi spitto. Vuol dire che quest'uomo è talmente grandioso che è anche superiore all'inferno. Per cui Dante siamo noi, nel mezzo del cammino di nostra vita, dove la parola chiave è nostra, la storia ci riguarda, ci appartiene e lo sentiamo talmente vicino che l'unico poeta che chiamiamo per nome, anzi per diminutivo, lui si chiamava Durante degli Alighieri, come se chiamassimo Manzoni Sandro o Leopardi Giacomino. Senti, sai che il tuo titolo, anche Grillo aveva scritto un libro che si chiama Rivedere l'estere, ti sei ispirato? Beh, in effetti, poi abbiamo il momento di mandarlo in stampa, ci siamo resi conto con lo Mondatore che c'era già questo titolo, abbiamo valutato che Grillo non si sarebbe offeso, cosa che non è accaduta, quindi mi fa piacere. Però in questi giorni, in queste ore, ci sono fibrillazioni nel governo proprio per l'atteggiamento di una parte dei 5 Stelle. Tu vedi che, lo chiederò anche al Ministro più tardi, De Micheli, tu pensi che ci sia un pericolo di tenuta del governo? Secondo me no, perché non c'è in questo momento un'alternativa al governo, poi siamo in piena pandemia, c'è una battaglia da combattere, quindi io non credo che nessuno abbia interesse a far cadere questo governo, ma neanche l'opposizione, anche perché poi come fai ad andare a votare con una pandemia in corso? Non credo che accadrà. Non credi che accadrà, quindi. Anche, beh, qualche anno, insomma, qualche anno, poco più di 25 anni dopo la morte, 27 anni dopo la morte di Dante, c'è la peste del 48, 1348, che ha segnato anche lì, appunto, quel secolo e quel momento. Chissà se tu pensi che questo governo e questa classe dirigente sia in grado di sopportare l'onda d'urto che comunque lascerà questo Covid? Guarda, Dante scrive che in Italia solo i mediocri fanno politica, cambiano troppo spesso i governi e i capi e una legge fatta a ottobre non arriva a metà novembre. Sotto certi aspetti sembra davvero il ritratto dell'Italia di oggi. Però vedi, a dispetto della cattiva prova delle classi dirigenti, e qui non è soltanto il governo, le regioni, c'è stato sicuramente un fallimento delle classi dirigenti, però dall'altra parte c'è la resistenza del popolo. Tu dicevi giustamente nel 1348 Firenze, che era la Manhattan dell'epoca, Firenze aveva il doppio degli abitanti di Parigi, il fiorino era il dollore del Medioevo e la popolazione sarà dimezzata dalla peste, ma la generazione successiva farà il miracolo del Rinascimento. Ce l'abbiamo sempre fatta e ce la faremo anche questa volta. Diceva Borges che la Divina Commedia è il più bel libro scritto dagli uomini ed è un libro scritto in italiano, nella nostra lingua, da un italiano, un nostro compatriota. E questo ci ricorda chi siamo, quello che abbiamo fatto, quello che possiamo, dobbiamo fare per tornare a rivedere le stelle. Dunque, continueremo tra poco a parlare del rivedere le stelle. Io prima però volevo andare a Roma. Ci colleghiamo infatti con due nostri amici, perché dal 12 dicembre, cioè da sabato prossimo, condurranno insieme, ricomincio da Rai 3 per quattro prime serate, dal Teatro Sistina di Roma appunto, Andrea De Logu e Stefano Massini, con un'idea che vuole essere un aiuto al teatro, ai lavoratori del teatro, non solo gli attori, ma tutti i lavoratori del teatro e dello spettacolo che sono stati fermati dalla Covid. E quindi mi collego con loro per chiedere esattamente che cosa vedremo. Buonasera Andrea, buonasera Stefano. Ciao Fabio. Buonasera a tutti, ciao Fabio. A voi. E grazie per averci invitato da te. Grazie a te Stefano, ma noi ci sentiamo ogni tanto. Allora Stefano, che cosa farete? Che cosa farete? Ma guarda, questa è una grandissima provocazione, perché noi facciamo una specie di grande cartellone del teatro che in questo momento non c'è. Cioè facciamo un cartellone il sabato sera per tutti coloro che vorrebbero andare a vedere music a vedere teatro, a vedere danza, a vedere tutto quello che in questo momento, ahimè, è vietato. E qua noi lo facciamo, lo presentiamo. Anche perché è così che non si perda la memoria delle sale piene, che non si perda la memoria di questi palchi dove ci sono degli artisti che sanno fare il loro lavoro in modo straordinario. Speriamo di essere utili. È presente DPCM, no Fabio? DPCM. Che poi insomma davvero sembra, come sempre, perché ormai confondiamo, caro Aldo, l'idea che la cultura sia sostanzialmente intrattenimento, un diversivo, una cosa in cui si può fare a meno e quindi non è esattamente essenziale. In realtà, senza entrare nel merito di questa sciocchezza, ma da un punto di vista pratico ci sono migliaia e migliaia di persone che hanno perso il lavoro, che stanno perdendo, che stanno soffrendo per la mancanza di lavoro, insomma. In questo senso, questa iniziativa, innanzitutto, credo, no, Andrea Stefano, che sia proprio volta a questo, insomma. Certo, anche a far capire, noi abbiamo anche fatto dei conti. Velocemente possiamo ricordare che c'è un numero soltanto per un musical, Fulmonti, pensa, ce ne sono tanti in Italia di musical che girano durante l'anno. 6.536 giornate lavorative, soltanto Fulmonti. Solo uno spettacolo, pensa a quanto lavoro, quante famiglie vivono con questo intrattenimento che alcuni dicono non essere necessario. E invece io l'ho detto anche, Fabio, in più di una situazione, lo ripeto adesso volentieri, perché è fondamentale. La cultura, che come dicevi giustamente tu, no, la musica, il teatro, il cinema, che all'apparenza sono intrattenimento, non sono intrattenimento, ma il cavolo di niente, perché durante il lockdown, se non ci fossero stati i film che la gente si vedeva, la musica che la gente ascoltava, i libri che la gente leggeva, mezza Italia si sarebbe tagliata le vene, la cultura ha salvato il culo della gente, diciamolo. Si è agitato. Si mi sono agitato, sì. Si è agitato, però pure, diciamo, con una metafora, ha fatto capire quello che voleva dire. Senti Stefano, tra l'altro questa pandemia ha interrotto anche il vostro proprio lavoro, perché Andrea tu eri in tournée col Giocattolaio, Stefano la tua Lemon Trilogy che ti ha reso famosa in tutto il mondo, che doveva rimanere in cartellone a Broadway, insomma, anche quella è stata cancellata. Insomma, voglio dire, ci sono, come dire, motivi per ciascuno di... Insomma, voglio dire, ciascuno di me è stato toccato davvero nel vivo, ecco, nella realtà quotidiana del proprio lavoro, da questa vicenda. Non è un modo di dire, ecco. Assolutamente è così. Sai cosa spero però, Fabio? Questo te lo dico sinceramente. Io spero che, come accade molte volte nella vita delle persone, no? Che ci rendiamo conto dell'importanza di qualcuno soltanto quando non ce l'abbiamo più. Ci rendiamo conto dell'importanza di certe cose soltanto quando le perdiamo di vista, soltanto quando ci vengono tolte. Ecco, io spero che del teatro, dello spettacolo dal vivo, della danza, dei concerti, della possibilità di andare insieme ad altre persone vive, sedersi in una platea e vivere un'esperienza di questo tipo, io credo che, spero che di questo si senta ancora di più il bisogno e che quindi ci sia una voglia matta di tornare a cibarsi di questo cibo che è cibo per l'anima. Senti Stefano... E poi, scusami, vogliamo anche dire una cosa, la facilità, usando questo mezzo così importante come la televisione, magari chi non è mai andato a teatro può vedere che in realtà il teatro non è affatto polveroso e noioso come alcuni dicono, anzi ci si diverte anche un bel po'. Anzi, assolutamente. Noi siamo insieme, c'è un terzo convitato, scusa, che qua non vedi con noi, un compagno di viaggio straordinario, che è Paolo Iannacci. Come no, Paolino, salutamelo tantissimo, il nostro Paolino, figurati, è uno dei miei amici più cari della mia vita. Senti Stefano, tra l'altro tu il Covid lo hai avuto, ne hai parlato, hai parlato, hai raccontato, tutto quello che è legato, anche le cose, i problemi pratici, insomma, ti abbiamo sentito. Posso chiederti come vivi adesso questo atteggiamento rispetto al vaccino di scetticismo che si respira qua e là? No, ma io non lo faccio, non mi fido, è un'invenzione. Sono le case farmaceutiche che hanno inventato il Covid, non esiste. Con 60.000 morti che ormai abbiamo raggiunto. Guarda Fabio, ti rispondo dicendoti due cose molto semplici. Allora, la prima cosa è questa. Sì, io il virus l'ho avuto e scusami se sono molto franco con te, ma ti posso dire che il primo che trovo che mi dice che è come un'influenza lo mando a quel paese, ecco, nettamente. Perché non è vero, non è un'influenza e io ti posso dire che l'ho sperimentato sulla mia pelle, anche se non l'ho avuto nella forma più grave, ma l'ho avuto comunque nella forma che hanno molte e che è una forma lunga, spossante, brutta, posso dire un aggettivo stupido, brutta. È un'esperienza che proprio non augurerei al mio peggior nemico. E poi una cosa che ha a che fare tanto con le emozioni, che poi sono un po' il nostro pane per chi si occupa di teatro e di cultura in qualunque genere. Vedi, io mi ricordo sempre che c'era una frase stupenda che diceva Van Gogh, che era che alla fine i colori primari sono pochi, il blu, il giallo, il rosso, no? Però in natura è difficilissimo vederli, il rosso vero, il giallo vero. Noi nella natura vediamo le sfumature dei colori, che non hanno nome, perché sono infinite. Certo. E così vale per le emozioni, no? Ecco, il teatro, la cultura, cercano di fare questo, cercano di farti conoscere quelle emozioni che non sono nominabili. Quella via di mezzo fra la paura. Ecco, io cercherò insieme ad Andrea di raccontare questo, di raccontare tutte le emozioni di un paese che aspetta. Di un paese che aspetta di essere liberato. Noi aspettiamo voi da sabato 12 su Rai3. Grazie Andrea, grazie tantissime, grazie Stefano, grazie molte. E noi Aldo torniamo a rivedere le stelle adesso, non solo come speranza per tutti, ma perché domani 7 dicembre, appunto, a rivedere le stelle, è il titolo, in qualche modo, della prima della Scala di Milano di quest'anno, una prima che a causa dell'emergenza Covid sarà diversa. E noi intanto una stella la vediamo subito, perché la stella con cui ci colleghiamo dal teatro alla Scala di Milano è Roberto Bolle. Buonasera Roberto. Ciao Fabio, buonasera. Grazie, grazie a te, grazie a tutti i lavoratori della Scala che ci hanno consentito questo collegamento questa sera, insomma, che hanno aperto per noi. Grazie Roberto. Allora raccontaci esattamente appunto qual è lo spirito di questa prima e questa straordinaria prima della Scala che dalle 17 per l'appunto sarà trasmessa da Rai1, da Rai3, da RaiPlay, quindi insomma sarà un evento televisivo. Che cosa accadrà? Esatto, è un evento molto importante, molto significativo in questo momento per la cultura. È un messaggio, il messaggio che la cultura e l'arte non si deve fermare ma deve ripartire. E da qui si può ripartire. In un momento così difficile, così duro, così buio per tutti noi, per l'umanità, bisogna ripartire dall'arte e dalla cultura. Ci può dare conforto, ci dà gioia, bellezza. È quello che veramente ci può far rinascere, è la luce in fondo al tunnel. Quindi questa prima, questo 7 dicembre, è particolarmente importante proprio perché la Scala è veramente il simbolo della cultura italiana, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Quindi ci sarà una parata di stelle, di star della musica, dell'opera lirica e anche del balletto, tutti insieme per segnare una rinascita, una ripartenza fondamentale in questo momento, veramente più che mai. Senti, tra l'altro stavo pensando, Roberto, che parlavo con Aldo Gazzullo del suo libro Rivedere le stelle, titolo che ha adoperato appunto anche la Scala. Ecco, se dopo 700 anni adoperiamo, in realtà un po' di più di 700 anni perché lui l'ha scritta nel 300, 721 anni, adoperiamo ancora un'espressione di Dante per significare qualcosa, vuol dire quello che diceva Stefano Massini, cioè quando l'artista è tale trova l'essenza esattamente delle parole, del colore per un pittore, del gesto per un interprete, per un etual come Roberto Bolle, insomma quel gesto di Roberto è uguale al colore di Van Gogh, è uguale a un verso di Dante. Ecco, volevo chiederti una cosa Roberto, ma adesso non ti offenderti, non ti offendere, ma voglio dire, tu nel lockdown ti sei dovuto fermare come tutti, però per un ballerino un anno di pausa è più di un anno mio, insomma, nel senso che è tanto. Assolutamente. Sto dicendo che è una... Sto dicendo, capito che sei... Però voglio dire, no, non è che tu abbia un età, però voglio dire, lui ha detto, lui l'ha detto, che fra due anni vuole andare in pensione, allora se uno pensa alla pensione dice, due anni se ne perdo uno, quindi devi farne almeno tre ancora, ecco questo voglio dire. Assolutamente, no, in realtà non so quando andrò in pensione, perché quello dipende dal mio fisico, lo vedremo qui in là, è stata un pezzo di un'intervista estrapolata, comunque è vero che tutto questo periodo di stop e di fermo è un periodo molto difficile, soprattutto per chi è abituato a lavorare col corpo unigiorno, quindi per noi artisti ballerini, così come per tutti gli atleti, quando siamo abituati a spingere il corpo ai massimi livelli, da sempre, fin da piccoli, dobbiamo essere sempre a un livello altissimo, tanti mesi così, quasi un anno senza poter performare ai massimi livelli, è veramente impegnativo. Io per fortuna alcuni spettacoli sono riusciti a farli, qui alla Scala siamo riusciti a fare Bolero a settembre, quindi esatto, siamo riusciti, e poi in questo periodo per fortuna c'è la televisione e abbiamo preparato e stiamo preparando un programma molto bello per il primo gennaio, la sera di Capodanno, ritornerò con Danza con me, con Vasco Rossi, molto speciale. Con Vasco Rossi? Con Vasco Rossi. Con cui apparentemente non hai molto in comune. No, dico, invece? Con cui apparentemente non ho molto in comune e credo che sarà molto bello per il pubblico vedere come due artisti così diversi riusciranno a trovare un punto di incontro tra le loro arti, veramente siamo molto lontani, ma secondo me riusciremo a stupirvi, a trovare qualche cosa di... e che sarà veramente magico. Ora ti faccio Vasco Rossi a vedere, c'è l'emozione che ci lega noi due, c'è l'emozione perché l'emozione è la canzone che fa pam, cioè si fa pam, se è così che Roberto Gugli fa cogliere, si fa pam, capisci? Piene cosa, così, è vero. Più o meno. Più o meno. È vero. Senti Roberto, il 24 novembre per Rizzoli è uscito Parole che danzano, io voglio sperare che questa copertina sia Photoshop, ma temo di no. E non lo è, non è Photoshop. Temo di no e quindi lui non è umano, come io ho sempre sospettato, è un libro fotografico naturalmente, e non solo perché è un dizionario personale che la chiude per tornare a Massini, per tornare a Dante, per torna a, come dire, a scegliere, ecco, le parole più care, più intime anche di Roberto. Ora, io ne ho scelte alcune, ma insomma potevo scelgine molte altre. La prima è perfezione, che è una parola che evoca la danza immediatamente ed evoca anche Dante, perché Dante più lo si legge, insomma, sono banali ricordi, mi rendo conto, universitari, ma insomma, se si studia Dante, ogni parola, quella parola, quell'uso del tempo, del verbo, è oggi soltanto un computer, riuscirebbe davvero a mettere insieme, no? Tutte le combinazioni, Aldo, per come è stata scritta. è un po'... Beh, sicuramente, appunto, come dicevi tu, ci sono tantissime parole, tutte le parole mi rappresentano in qualche modo, sono parole importanti della mia vita e del mio percorso artistico. Perfezione è una di quelle, perché la danza cerca, aspira alla perfezione, una perfezione che è irraggiungibile, ma ogni giorno noi ci mettiamo al lavoro e lavoriamo sul nostro corpo per raggiungere quell'ideale, pur sapendo che non riusciremo mai ad arrivarci. Senti, hai messo anche però disordine, hai scelto, che è il contrario, in qualche modo, della perfezione. Eh sì, perché mi rappresenta molto, io sono una persona, magari appunto non si può intuire immediatamente, ma molto pigra e disordinata, infatti, chi entra nel mio camerino qui alla scala e capisce subito dov'è la mia postazione, perché tutte le cose buttate in giro intorno e in quello sono veramente un disastro, lo ammetto. Senti, la parola telefono è legata alla scala, invece? Sì, perché la parola telefono è un aneddoto molto caro, molto importante, che è quando ho fatto questa telefonata a casa, sono stato promosso primo ballerino dopo una recita di Romeo e Giulietta, il giorno dopo mi ha chiamato, sovrintendente, mi ha nominato primo ballerino, è stata per me una sorpresa, un'emozione incredibile, quindi ho subito chiamato mamma e papà a casa e devo dire, è stata un'emozione incredibile, ancora adesso, tutte le volte che lo ricordo, è una grande emozione, perché in quel momento ho condiviso quello che era il raggiungimento di un risultato importante con loro, che si erano sacrificati tantissimo per permettermi di seguire la strada, appunto, della danza, sta facendo davvero tanti tanti sacrifici, e quello era un po' come ripagarli di tutti questi sacrifici. Senti, Roberto, un'ultima cosa, domani cosa farai tu in questa prima? Domani un assolo, molto bello, di Massimiliano Volpini, in cui duetterò con un raggio laser, quindi un'unione di danza, espressione del corpo e nuove tecnologie. Mi piace sempre unire quella che è l'arte, appunto, così raffinata, ma anche antica della danza, con le nuove tecnologie per riuscire anche a coinvolgere, ad emozionare, a raggiungere anche un pubblico diverso, magari più giovane. Credo che domani questo evento dalla scala riuscirà davvero a emozionare milioni di persone in tutto il mondo. Senti, l'anno scorso Geppi aveva raccontato che mangiavi molti snack giapponesi mentre facevate il programma. Hai smesso o hai ancora la dipendenza? Ho smesso, sì, non sono più arrivati quest'anno e i miei fan giapponesi non me li hanno più portati perché non hanno più viaggiato, perché di solito i miei pesciolini giapponesi mi arrivavano con i fan che venivano a seguirmi dal Giappone. Senti, Carlo Roberto, ti abbraccio tantissimo, grazie, buon Natale anche per intanto, poi ci rivedremo con Danza con me. Grazie Fabio. Grazie mille. Il primo gennaio ricordo parole che danzano Rizzoli, i libri come in questo momento ci fanno compagnia. Grazie a Roberto Bolle. Torniamo con Aldo Cazzullo per rimostrare appunto il tuo Rivedere le stelle, Dante, il poeta che inventò l'Italia. Io adesso incomincerò tra poco da pubblicità a parlare di Covid, incominciamo col Covid e con l'attualità. Tu trovi che noi siamo arrivati in ritardo, ci siamo fatti trovare impreparati a questa seconda ondata? Sì, le classi dirigenti non hanno fatto bene secondo me, ma siamo stati salvati dalle donne. Noi diciamo sempre medici e infermieri a maschile, ma la maggioranza degli infermieri sono donne, ma anche la maggioranza dei giovani medici sono donne. Ma penso anche le insegnanti che hanno riaperto le scuole e ora fanno lezione di stanza, penso le nonne che si sono prese cura dei nipoti che non potevano andare a scuola e Dante questa cosa l'aveva intuita, per Dante è la donna che salva il genere umano, Beatrice che salva Dante. La donna è il capolavoro di Dio, è la meraviglia del creato e Beatrice che raffigura idealmente tutte le donne amate, non soltanto le spose, le fidanzate, ma anche le mamme, le nonne, le figlie. Beh, Beatrice è la meraviglia delle meraviglie. Noi abbiamo per, ecco, lo vedo già pronto, forse possiamo intanto salutarlo prima della pubblicità, vedo il professor Ricciardi, buonasera professor Valter Ricciardi, come sapete consiglieri fra le altre cose, buonasera professore del ministro Speranza, tra poco parleremo con lei naturalmente del covid, intanto una valutazione sullo stato attuale, oggi, i dati di oggi, cosa ci dicono e cosa le dicono? Ma ci dicono che la lotta è lunga e dobbiamo essere persistenti perché siamo su un plateau, cioè siamo a un appiattimento della curva che però l'esperienza ci dice durerà a lungo, quindi sostanzialmente bene, però dobbiamo continuare così. Allora professore, io mando la pubblicità, poi se lei è d'accordo ricominciamo esattamente da qui, da questo che lei ha chiamato, ormai abbiamo imparato questa definizione, plateau, quindi da questo momento di apparente assestamento della curva che speriamo naturalmente sia confermato, per decidere se si stiamo comportando con buon senso oppure no. Le chiedo di pazientare tre minuti professore, grazie a Aldo Cazzullo, ci vediamo fa tre minuti con il professor Walter Ricciardi, grazie. grazie a tutti.